clips r34c unboxing e non solo anche installazione e calibrazione ma partiamo con l'unboxing fatto il 3 febbraio dopo lunga attesa visto che l'avevo preso il 22 dicembre e intanto diamo un'accelerata al video se già non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanellina per ricevere le notifiche e magari di seguirmi anche sui social twitter e instagram ad esempio mentre continua l'unboxing vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video vi lascerò il link su amazon dove trovare queste casse centrali della clip io le ho prese da feste sound perché c'era un'offerta molto buona salvo l'inconveniente di dover attendere una vita visto che non erano immediatamente disponibili e sono tornate a essere disponibili più di un mese dopo che le avevo ordinate ordinate ricordo il 22 dicembre arrivate a casa mia il 3 febbraio comunque ormai sono arrivate eccole qui tiriamole fuori dalla scatola cerchiamo di riuscirci giriamo la scatola in modo che escano più facilmente esca perché la cassa è una in realtà lunga anche abbastanza pesante ma è una sola intanto in alto sulla destra nel riquadro potete vedere tutte le specifiche di questa cassa centrale e mentre metto da parte lo scatolone sempre in un nuovo riquadro sulla destra in alto vedete altre caratteristiche di questa cassa centrale che sto ultimando a spacchettare andiamo a togliere le ultime protezioni in polistirolo per poi tirarle fuori anche dalla plastichina che le protegge ulteriormente vedere dal vivo finalmente come sono tra le casse centrali della clips sono forse tra le più piccole almeno a quelle diciamo prolungate con con questa tipologia di altoparlanti però hanno il loro peso devo dire non credevo pesassero così così tanto 7 kg circa come tutte le clips hanno la protezione che si attacca magneticamente attacca e andiamo a vederle in tutta la loro bellezza nei particolari e ora le giriamo perché bisogna mettergli i piedini di gomma che sono forniti direttamente dalla clips utili per eliminare le possibili vibrazioni che possono arrivare dalle casse dalla cassa diamo un'accelerata a questa parte del video perché comunque è vero che io sono molto preciso e pignolo nel mettere questi piedini ma non ci perderei più di tanto tempo almeno nel video andiamo a vedere anche i collegamenti la parte dove ci sono i collegamenti dietro e ci sono anche gli eventuali attacchi per metterle sul muro cosa che io non farò qui ho svitato gli attacchi per poter inserire poi il filo e vedremo quindi l'installazione questa è la vecchia cassa che andrà eliminata eccoci all'operazione delicata non è semplice andare a infilare nel buchino il filo mi raccomando filo rosso nel fermo rosso e filo nero in quello nero e mi raccomando prima di fare questa operazione staccate l'amplificatore dalla corrente se non volete rimanerci secchi o comunque prendere la scossa stringiamo bene il cavo spellato nel suo fermo l'alternativa può essere fissare i cavi con il banana plug ovvero il connettore a banana che però porta via spazio sul retro quindi io sinceramente preferisco questo tipo questa modalità di fissaggio del cavo stringiamo bene il cavo nero e poi il gioco è fatto a questo punto non rimane che mettere in posizione la cassa dove andrà eccola qui sul suo bel ripiano e poi mi raccomando ricordatevi di dare nuovamente corrente all'amplificatore la mensola su cui sto posizionando la cassa l'ho presa da l'erroi merlène a un costo di circa 10 11 euro e qui qualche foto alla cassa centrale della clips una volta messa in posizione tutte le nuove casse che ho preso della clips sono ormai in posizione quindi andiamo a fare la calibrazione attraverso il microfonino e l'amplificatore con la sua funzione dedicata e qui vi lascio l'esempio della calibrazione sulla prima posizione ma le posizioni quindi tutto questo procedimento va poi ripetuto otto volte in otto posizioni diverse questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati guarda altri video ce ne sono di vari generi tornerò presto con altri video ciao alla prossima